Ricordo che se volete seguire l'Artistabio su Facebook, Youtube e Instagram, lì potete trovare tutti i contatti dell'Artistabio. Inoltre c'è un grandioso pacchetto di merchandising dove per trovare le magliette come questa o quella realizzata da un curatore, tipo Aperenite, P-K, Claudio e Chateau, che ha realizzato una maglione esclusiva per l'Artistabio, sempre lì al maglietto. Ora, prima del prossimo incontro, dobbiamo raccontare un attimo la storia, perché dovete sapere che Jacob, uno dei due contendenti del nostro incontro, è sempre stato accompagnato sul ring da Camilla. Camilla è una bambola che è un po' una parte stessa di Jacob, ma ultimamente è stata rapita da quello che sarà il suo avversario di oggi, cioè di dopo. Perciò lasciatemi introdurre per prima, proveniente direttamente dal circo, con il peso di 51 kg, accompagnato da Camilla Didò. Grazie. 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 Il suo avversario, proveniente da Piacenza, con il peso di 94 kg, Jacob. Di qui, ecco. Grazie. 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 Grazie a tutti. Benissimo. Grazie a tutti. È un bel rai, figlio. Grazie a tutti. GAMEEEEEEEEE!!! L'antica! Lascia mia bambala! Ma è? A mi veniamo dell'acqua! Ehi chi ti dispiace! Io voglio fare l'occasione! Guardate i posti, so né! Grazie. Grazie. Guarda quelli ciuccherini! Guarda quelli ciuccherini! Fuori da me! Iniziamo! Guardi, non ci provate! Non ci provate! Uno! Due! Tre! Quattro! Aia! Basta, basta! Uno! Due! Uno! Due! Tre! Quattro! Due! 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 A cagare ma! Veloci! Uno! Due! 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 Nooo! Oioioio! Ma cosa ti devo dire? Sono qua, mi dici che finisce e basta! Ma tu non me lo canto! Adesso mi sono rotto le barbe! Ma nooo! Nooo! No! Lascia Camilla fuori! Fuori! Fuori Camilla! Nooo! 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 Uno! Due! Tre! Vai! Anche tu! Anche tu! Anche tu! Basta! Tu andate su ring! Sette! Vieni! Fuori! 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 Oh! 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 Glorone! Tanto male! Chi ha il piede? Chi ha il piede? Chi ha il piede? Chi ha il piede? Dimelo nelle basse! Dimelo! Dimelo come c'è! Non lo fai! Non lo fai! Non lo fai! Non lo fai! Ah! Aiii, c'è la rue! C'è lui! Hey! Applaudissements Lassalini! Lassalini! Ecliat! 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.